Questa è la mossa dello schiaccianoci? Così no, poi stacca, stacca, stacca. È perfetto, eh? Cosa dice a queste ragazze? È la tattica francese di fallo al volo. Così gli dici? Eh? Salutale che stasera ti stanno guardando. Però se lo armi mi insegnerò qualche trucco alla francese. Bravo Mario. E non spellerò. Ah, non spellerò i tuoi trucchi? No. Bravo. Bene, salutale. Adesso voglio dal fisioterapista. Va bene. Ciao Mario, buona giornata.